Un cordiale saluto e bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per i prossimi giorni, in particolar modo per mercoledì e giovedì. L'anticiclone delle Azzorri tenderà nuovamente ad espandersi verso est e quindi riconquisterà, riavvolgerà tutto il Mediterraneo e spazzerà via le correnti più fresche e instabile che in queste ultime ore stanno interessando il lato adriatico e il centro-sud. Quindi tra mercoledì e giovedì alta pressione che ingloberà tutto il Mediterraneo e l'Europa sud-occidentale riporterà il bel tempo, mentre le perturbazioni atlantiche scorreranno sull'Europa centro-settenzionale e non intensiranno minimamente la nostra penisola. Giornate quindi stabili e soleggiate, avremo sole praticamente ovunque, qualche locale temporale sarà possibile esclusivamente sulle aree montane e sull'arco alpino, fenomeni quasi inesistenti invece sull'Appennino, eccetto qualche esporadico rovescio sull'Appennino centrale, tanto sole e sulle coste, venti deboli a regime di brezza. Le temperature in aumento senza particolari accessi, le massime oscilleranno mediamente tra i 30 gradi del nord e i 32 gradi del sud, molto fresco durante le ore notturne, localmente anche sotto i 19-18 gradi nel pianura padale. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, attivo l'augurio di una buona giornata.